Test di medicina venduti per 20 euro. È la denuncia contenuta in una denuncia presso la procura e un appello al catrame contro le classifiche ad e-works false da Leone Felci. La notizia è prevista da Repulica. Secondo il giornale, qualcuno avrebbe pagato migliaia euro per iscriversi a un corso di preparazione che ha permesso conoscere in anticipo le domande del test. Altri hanno invece trovato il gruppo giusto su Telegram per avere un soffio sulle domande a cui avrebbero avuto i medici sfumatisono stati sottoposti. Accetto allo studio legale. Queste sono solo alcune delle irregolarità che avrebbero caratterizzato questa prima edizione del T.O.L.C. Il nuovo modo di accedere alle università della medicina. Gli avvocati Francesco Leone e Simona hanno riferito Reports Repulica. Parlano in adeguatezza dei controlli da parte della Cisia e spedienti che molti candidati diverse. Scuole per la preparazione dei a missione hanno ideato le domande e le soluzioni oggetti correlati. Delle relative test oggetti esame. Irreparabilmente falsi i risultati del